Bentornati con le notizie di VeganoCatgy News. Apriamo parlando di un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Future Foods che afferma che la carne vegetale è più sana e più sostenibile di quella animale e soprattutto fornisce ai consumatori un modo semplice per ridurre il consumo di prodotti animali. Poiché la carne di origine vegetale e altri alimenti sono formulati per replicare il gusto, consistenza e l'esperienza culinaria complessiva dei prodotti animali certamente sono un modo molto più efficace per ridurre la domanda di carne e latticini di origine animale rispetto al semplice incoraggiamento alle persone a cucinare cibi vegetali integrali a casa. E per la prima volta in assoluto in Germania il mese scorso il latte d'avena è risultato più economico del latte vaccino. A luglio la testata giornalistica tedesca Focus ha riferito che i prezzi del latte animale stavano aumentando vertiginosamente raggiungendo i massimi storici nei supermercati. Anche i rivenditori noti per i loro prezzi bassi come Aldi hanno aumentato i prezzi del latte vaccino. Focus ha aggiunto che la maggior parte dei prezzi del latte ha superato l'euro e rispetto a dicembre 2021 i prezzi del latte intero sono aumentati di 29 centesimi al litro. Ciò significa che per la prima volta in assoluto i prezzi del latte vegetale in particolare avena e mandorle sono più economici del latte vaccino. E restiamo in Germania perché l'Octoberfest di quest'anno è più vegano che mai. Bistecche di soia, cotolette di piselli sono solo un paio delle opzioni senza carne offerte quest'anno. La tradizionale kermesse iniziata nel lontano 1800 che offre ai visitatori diverse tipologie di birra e tanta carne col passare del tempo sta diventando sempre più vegan friendly. Mentre gli alimenti a base di carne sono ancora disponibili in abbondanza le opzioni vegetariane e vegane stanno aumentando di anno in anno. E tutto questo si legge sul sito ufficiale dell'Octoberfest. La Germania ha sempre amato la carne ma ultimamente le cose sembrano cambiare. A marzo infatti un sondaggio ha rivelato che il 10% dei tedeschi non mangia affatto carne mentre il 30% segue una dieta flexitariana. L'icona The Queen Brian May ha esortato i suoi 3 milioni di follower ad abbandonare la carne per salvare pianeta, salute ed animali. Il leggendario chitarrista The Queen Brian May ha invitato i suoi fan a smettere di mangiare carne dicendo che probabilmente la cosa più efficace che possiamo fare come individuo in questo momento è eliminare la carne dalla nostra dieta. Questa è anche la cosa migliore che possiamo fare per la nostra salute e per ridurre la crudeltà verso gli animali. Il chitarrista che usa spesso la sua piattaforma per parlare di diritti animali ha recentemente condiviso un articolo su come la terra sarà presto irriconoscibile a causa del cambiamento climatico. Bene, è tutto con le notizie di VeganoCatgy News che tornano puntuali con voi la prossima settimana. Grazie per averci seguito.